Questo video riguarda i migliori 3 pentole a pressione. Il vincitore della qualità è l'Agostina Novia. Le pentole a pressione Lagostina ti permettono di mangiare in modo sano e leggero, risparmiare tempo ed energia e cucinare un'ampia varietà di piatti grazie alle 3 modalità di cottura a vapore. La pentola a pressione Lagostina Novia Vitamin Lagoisia P è realizzata in acciaio inossidabile 18 decimi di alta qualità, duraturo e 100% igienico. Apri e chiudi la pentola Lagostina in un unico movimento e senza sforzo grazie al sistema di apertura Lagoisia, ancora più facile da utilizzare. Dotata di 6 sistemi di sicurezza per usarla in tutta facilità, oltre a un coperchio intelligente con presa sicura per sollevarla e spostarla direttamente dal manico. Il fondo Lago Fusion ad alto spessore con 3 strati è adatto a tutti i piani di cottura, induzione inclusa. La valvola di esercizio Vitamin è dotata di due livelli di pressione selezionabili. Uno per la cottura delicata e uno per la cottura rapida. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Lagostina preziosa. Lagostina rinnova il mondo a pressione con Lagoisia P technology, un nuovo sistema che rende facile l'apertura e la chiusura con una sola mano e in un solo movimento, in ogni posizione del coperchio. Modifiche che migliorano significativamente l'esperienza di utilizzo della pentola a pressione e che la proiettano nel futuro unendo l'alta funzionalità e il design. La Lagoisia P technology è un brevetto unico e non replicabile e dal 2020 è disponibile su tutte le pentole a pressione Lagostina. Inoltre, è dotata di ben 6 sistemi di sicurezza. Inserisci gli alimenti indicati nella ricetta ed il liquido necessario, non preoccuparti se ti sembra poco, la pentola è ermetica ed il vapore non esce. Chiudi il coperchio ed imposta la valvola in modo che sia chiusa. La tua pentola a pressione è già pronta per cucinare. Imposta il calore al massimo appena la pentola va in pressione e noterai che il lever block sale a bloccare il manico. Il vincitore del premio è Lagostina Irradial. Le pentole a pressione Lagostina ti permettono di mangiare in modo sano e leggero, risparmiare tempo ed energia e cucinare un'ampia varietà di piatti grazie alle tre modalità di cottura, a vapore, a immersione e rosolatura. La pentola a pressione Lagostina Irradial Control Lago Easy Up è realizzata in acciaio inossidabile 18 decimi di alta qualità, duraturo e 100% igienico. Apri e chiudi la pentola Lagostina in un unico movimento e senza sforzo grazie al sistema di apertura Lago Easy Up, ancora più facile da utilizzare. Dotata di sei sistemi di sicurezza per usarla in tutta facilità, oltre a un coperchio intelligente con presa sicura per sollevarla e spostarla direttamente dal manico, e robuste maniglie laterali in acciaio. Il fondo triplo strato Irradial Plus, in alluminio ad alto spessore racchiuso tra due strati di acciaio, permette al calore di diffondersi in modo rapido e uniforme. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.